Una premessa, clima e ambiente, le definizioni sono estremamente varie, io direi che clima fa parte dell'ambiente, si influenzano, se li volete tenere separati l'uno con l'altro in qualche modo. Sono cambiati nel tempo, i cambiamenti ambientali costituiscono una fonte di notizie quotidiane, soprattutto durante l'estate quando il governo va in vacanza, soprattutto quando comincia a fare un caldo tremendo, allora cerchiamo di dire che stiamo attraversando un periodo di global warming o quando il nostro interesse deve essere depistato verso altri argomenti. Sicuramente è qualcosa di importante, è un aspetto della nostra vita quotidiana, della vita quotidiana dei nostri antecedenti, dei nostri antenati, chiamiamoli così, i quali a diverso livello hanno dovuto coesistere adattandosi all'ambiente stesso e alle sue variazioni. Non dimentichiamoci che oggi stiamo osservando un certo tipo di variazioni ambientali e che queste in modo diverso, con tempistiche diverse, si sono manifestate anche nel passato, in certi casi anche con estrema velocità e di conseguenza l'uomo, ma non soltanto l'uomo, tutti gli esseri viventi hanno dovuto imparare in qualche maniera ad adattarvisi. inizialmente abbiamo fatto parte, parlo sempre alla prima persona plurale, più comprensivo, abbiamo fatto parte di una catena alimentare, eravamo ancora largamente vegetariani, quasi sicuramente, abbiamo fatto parte di questa catena alimentare come cibo, come invitati a cena senza sapere di essere la cena. E pian piano abbiamo cominciato attraverso processi evolutivi, non soltanto fisici, ma soprattutto culturali, a diventare dei predatori noi stessi, dei predatori di top, e finché a un certo momento da predatori, cacciatori e raccoglitori, come usiamo a chiamare le nostre culture del passato, che sono dedicate prevalentemente al prelievo di risorse dall'ambiente, siamo diventati a un certo momento addomesticatori. Abbiamo prima imparato ad addomesticare il fuoco, anch'esso un aspetto ambientale, prima probabilmente raccogliendolo, sfruttandolo quando nasceva, poi diventando capaci di produrlo autonomamente. Poi abbiamo imparato ad addomesticare qualche animale, il cane per esempio, il lupo che poi è diventato cane, finché a un certo momento siamo diventati produttori. La società di produzione deriva dalla capacità di addomesticare piante, di addomesticare animali e trasformarli in un frigorifero vivente da tenere dietro casa, nel campo, nel pollaio, nella stalla, eccetera. Vegetali e animali che in qualche maniera costituiscono una doppia assicurazione contro la fame del prossimo anno, perché potrebbe darsi che un anno vada male per l'agricoltura, ma a questo punto siamo in grado di supplire attraverso gli animali che abbiamo allevato. Dall'altra parte può andare male un'annata con l'allevamento e speriamo che non vada male anche per il nostro raccolto. Ma l'essere diventati addomesticatori di piante e animali ha implicato anche diventare addomesticatori di ambienti, perché per poter diventare agricoltore l'uomo deve prima tagliare la foresta, infatti il primo attrezzo del contadino e l'ascia per abbattere il bosco, abbiamo cominciato a irrigare, a bonificare, a terrazzare tutta una serie di operazioni che modificano l'aspetto dell'ambiente finché oggi costruiamo i grattacieli e tra un po' cominceremo a costruirli anche sulla Luna, probabilmente, se non su Marte. E quindi siamo passati sempre attraverso interazioni uomo-ambiente da una fase in cui era prevalente l'azione e l'influenza dell'ambiente sull'uomo a una fase in cui è stato l'uomo a modificare sempre più pesantemente e sempre in maniera più importante le caratteristiche dell'ambiente. Dove andremo a finire? Onestamente non ve lo so dire. Se leggete John Gray, un filosofo inglese contemporaneo, la presunzione che noi abbiamo di essere capaci di plasmare il nostro futuro dal punto di vista economico, dal punto di vista evolutivo, genetico, energetico, quello che volete, è puramente un'illusione. È un'illusione perché siamo comunque soggetti alle leggi di Darwin e dell'evoluzione. Io sono profondamente convinto che un bel giorno, un brutto giorno, non ve lo so dire, saremmo sostituiti da qualche altra cosa. È una visione un po' pessimistica, se volete, però se anche fossimo capaci di tramutare noi stessi attraverso una manipolazione genetica, saremmo stati noi stessi agenti principali della nostra estinzione, perché saremmo diventati un'altra cosa. Ma qui andiamo a finire nel filosofico. Cerchiamo di rimanere nel nostro tema. Abbiamo visto che il clima sta cambiando e che il clima è cambiato. Come? Perché? E anche quando è cambiato? Abbiamo testimonianze di cambiamenti recenti, abbiamo testimonianze di cambiamenti molto antichi. Abbiamo cominciato a rendercene conto quando abbiamo, verso la fine del Settecento o anche prima forse, cominciato a scavare nelle grotte, a osservare la presenza di fossili, di animali che erano molto simili ad animali che oggi non vivono più nei territori in cui li stavamo trovando. E che quindi necessariamente dovranno significare che in quel territorio nel passato vi fossero state delle condizioni ambientali diverse, largamente influenzate dal clima. Cerchiamo, abbiamo cercato di capire quali fossero le cause di queste variazioni del clima. attraverso vari passaggi a un certo momento arriviamo all'ipotesi di Milankovic, un matematico serbo che preso prigioniero durante la prima guerra mondiale per trascorrere il tempo, armato di carta e penna, cerca di dare alla luce la sua teoria secondo la quale fosse possibile che le variazioni climatiche, della temperatura, della pieposità e di altri parametri puramente climatici fossero dovuti a delle differenze nell'insolazione che la Terra riceveva e quindi dell'energia termica che il Sole radiava sulla Terra. Sappiamo che la Terra si muove intorno al Sole con una serie di movimenti. All'epoca Milankovic non aveva a disposizione un computer, soltanto carta e penna, e riuscì a fare un lavoro meraviglioso, enorme, che è quello che vedete risulto in quella linea nera, in quella curva di colore nero che vedete su questo diagramma, che ci dice con la scala di destra qual è l'energia che cade sulla Terra in luglio a 65 gradi nord, che sembra essere la zona chiave per quello che riguarda le variazioni climatiche. Vedete che ci sono delle variazioni molto nette che ci dicono quanto dovrebbe essere intensa la radiazione solare e ipoteticamente il clima dovrebbe seguire questa curva. Però in realtà vedete che sotto questa c'è una curva di colore rosso che è una rappresentazione vera e propria di quello che noi possiamo ricostruire oggi del clima e che è data dallo studio del rapporto isotopico 16-18 che si trova nelle carote di ghiaccio prelevate dai ghiacciai ornallandesi. Ci sono dei colleghi che frequentano quei luoghi, anche l'Antartide, fanno delle perforazioni nel ghiaccio e estraggono queste carote, da queste carote estraggono ovviamente l'acqua che costituisce il ghiaccio, ma non soltanto l'acqua, anche delle bollicine d'aria che rappresentano la composizione dell'atmosfera che in quel momento si trovava intorno alla terra e che contiene dei gas e sulla base di queste analisi possiamo stabilire quale fosse per esempio la percentuale di etride carbonica o di altri gas sera presenti sulla terra, sull'atmosfera scusate. La curva isotopica invece del rapporto 16-18 ci dice in sostanza quale fosse la temperatura di caduta di deposizione della neve e vedete che in certi punti quadra e in certi punti non quadra per niente, ma soprattutto la curva reale è qualcosa di estremamente più complicato e che presenta delle oscillazioni fittissime a brevissimo periodo. Attraverso studi fisico-matematici si è potuto vedere che queste variazioni, soprattutto nel periodo tra 70.000 e 18.000 anni da oggi, hanno una periodicità estremamente fitta di circa 1.470 anni e che quindi le variazioni climatiche possono essere veramente qualcosa di estremamente rapido. D'altronde lo vedete anche abbastanza bene da questa curva che in certi punti il passaggio da una fase fredda a una fase calda è estremamente ripido, brevissimo, mentre invece per passare da una fase calda a una fase fredda si passa attraverso una serie di piccole oscillazioni fino ad arrivare a un minimo. Dobbiamo darci una spiegazione di questo. Milankovic non basta. Milankovic è stato quasi abbandonato per un periodo perché non si riusciva a far quadrare in maniera completa i dati che raccoglievamo dagli scavi archeologici, dalla paleontologia eccetera, proprio perché all'epoca ancora non avevamo scoperto l'utilità di queste curve isotopiche. Ci basavamo probabilmente su dati paleontologici, paleobotanici e le variazioni erano talmente tante che non si riusciva a inserirli in maniera corretta all'interno del modello di Milankovic. A questo punto però si è cominciato a scoprire qualche altro aspetto che in realtà ha riportato in auge Milankovic attraverso quello che viene chiamato orbital forcing. Si riesce a capire in sostanza che ci sono degli altri parametri che sono importanti, il clima è un sistema estremamente complesso, ma Milankovic è come il metronomo, il direttore dell'orchestra, che dà il tempo a tutti gli altri fenomeni e che quindi in qualche maniera la periodicità in grande, quantomeno, è regolata dai parametri orbitali della Terra intorno al Sole. si è discusso molto quando avvengano quei fenomeni estremamente importanti di raffreddamento climatico che abbiamo chiamato glaciazioni o le deglaciazioni che si verificano tra l'uno e l'altro. Si discute molto, in realtà non abbiamo ancora trovato un consenso. Studiare il clima è estremamente complicato ed è una scienza che è ancora tutto sommato abbastanza agli inizi. La circolazione del termo all'inaverosia tutto il movimento delle acque attraverso le correnti negli oceani, come queste vengono riscaldate dalla radiazione solare in prossimità delle aree tropicali, come queste poi migrano trasportando il calore, soprattutto nell'Atlantico, da sud verso nord, mitigando la temperatura dell'Europa nord-occidentale. È un aspetto estremamente importante che in parte anche è regolato dai parametri orbitali della Terra. Perché oggi noi abbiamo lo stereotipo dell'inglese con l'ombrello? Perché c'è la corrente del golfo che trasporta energia attraverso l'acqua del mare e facilita l'evaporazione di quest'acqua, quest'acqua si condensa attraverso nuvole e poi cade come pioggia e bagna gli ombrelli degli inglesi. Ma questo significa che c'è un flusso di energia da sud verso nord, quindi noi in questo momento ci stiamo scaldando a spese dell'emisfero meridionale. E siccome sembra che stia succedendo in questi ultimi anni, la corrente del golfo rallenta, che cosa succede? Abbiamo un minore trasporto di energia e quindi un'alterazione estremamente complessa dei parametri che possiamo osservare alle diverse latitudini. Se si fermasse la corrente del golfo avremmo la perdita di questo fattore mitigatore che si incontra qui nel nord dell'Atlantico, prima che la corrente del golfo ormai è diventata fredda, si inabisse in profondità e toni indietro e quindi mancherebbe l'effetto umidità, mancherebbe l'effetto innalzamento della temperatura, l'Europa si trasformerebbe in una specie di deserto, una prateria fredda e arida. Questo porterebbe inoltre ad aumentare delle temperature alle basse latitudini e quindi avremmo questa fortissimo contrasto tra le aree intertropicali e le parti sedenzionali, con climi decisamente torridi, per contrasto a questi climi decisamente freddi e aridi. È già successo, è successo nemmeno tanto tempo fa, in un periodo che chiamiamo Drias recente, circa 13.000 anni fa, Drias per il diffondersi del Drias octopetala, cameidrio alpino, che oggi troviamo nei greti dei torrenti in alta montagna e che invece 13.000 anni fa era una delle principali piante che crescevano nella pianura padana. Quindi siamo passati attraverso tutta questa serie di fasi da un massimo glaciale con l'ampliamento delle calotte glaciali nel nord Europa e sulle catene montuose intorno a 24.000 anni e poi intorno a 19-18 comincia la deglaciazione con la riduzione di queste masse glaciali, la diminuzione dell'albedo, cioè della riflessione dell'energia solare verso l'alta atmosfera e di nuovo poi nello spazio, una fase temperata intorno a 15.000 anni con una certa diffusione della foresta, del bosco aperto quantomeno in parte nel sud anche di latifoglie, ma probabilmente di conifere e di piante adattate all'ambiente più freddo e poi 13.000 anni fa blocco della corrente del golfo, semideserto, arido e freddo. E soltanto in seguito poi con il miglioramento degli ultimi 10.000 anni approssimativamente andiamo verso l'oprimo climatico che favorisce, ma non è soltanto lui, l'agricoltura fino ad arrivare alla situazione attuale. Risorsa da utilizzare in questo caso, io la uso regolarmente anche nelle lezioni universitarie, la trilogia The Ice Age, film di animazione, che a parte alcune cose che centrano contro il cavolo a merenda, ovvero sia i dinosauri che strizzano d'occhio al mondo perduto. O il dodo, effettivamente racconta in maniera accurata, utilizzando animali effettivamente esistiti e fatti effettivamente esistiti, una storia ambientandola in un ambiente diverso dall'attuale. È un film che letteralmente fa il cito di riferimenti dotti, in certi casi, di tipo ambientale, paleontologico, eccetera. Quest'ancro si vede forse che sono un cinefilo e io lo definirei un B-movie dei primi anni 2000, di quando ancora si parlava poco dell'influenza della circolazione termolinea sul clima, ma come vedete in una fase iniziale di questo film c'è qualcuno che mostra già in quel momento l'effetto di questo fenomeno. Cosa succede in sostanza? Oggi abbiamo capito che sono importanti non soltanto questi aspetti che abbiamo appena visto, ma anche l'effetto serra dovuto alla concentrazione di gas come l'anidoide carbonica, metano, altro nell'atmosfera, che impedisce la riflessione della radiazione solare di nuovo all'esterno dell'atmosfera, ma che la fa rimbalzare più volte sulla Terra. In questo caso, cosa succede? Si alzano le temperature dei mari, l'anidoide carbonica è meno solubile in acqua relativamente calda e quindi passa nell'atmosfera e abbiamo un feedback positivo. Più aumenta la temperatura, più aumenta l'emissione di CO2 dalle acque del mare, più aumenta nuovamente la CO2 dell'atmosfera e così avanti. Inoltre, questo provoca anche una diminuzione della materia organica all'interno delle acque del mare che vedremo invece ha un effetto importante durante le fasi glaciali. Fasi glaciali in cui in sostanza viene l'opposto, perché maggiore solubilità dell'anidoide carbonica nell'acqua del mare, questa passa nell'acqua, a causa anche delle basse temperature è meno efficiente il riciclaggio della materia organica che viene convogliata anche sotto forma di materia organica non mineralizzata come l'anidoide carbonica all'interno dell'acqua del mare. Le temperature si abbassano a causa del minore effetto serra, aumentano le dimensioni delle calotte glaciali, le calotte glaciali danno un effetto di maggiore riflessione con un'elevata albedo e quindi l'energia si disperde non più ostacolata dal passare attraverso l'anidoide carbonica, ma liberamente attraverso l'atmosfera verso lo spazio esterno. In più, il ghiaccio che ricopre con delle ampie calotte polari buona parte degli oceani settentrionali soprattutto farà coperchio e impedisce all'anidoide carbonica di passare nell'atmosfera e quindi una serie di feedback che portano a un sempre maggiore e rapido raffreddamento del clima. Quindi siamo in un sistema complesso in cui abbiamo la circolazione oceanica, effettivamente i moti della Terra intorno al Sole che danno il ritmo di tutto questo, ma anche i vari feedback legati alla presenza dei ghiacci e dei gas server. Attraverso tutto questo noi siamo passati nella nostra storia di ominini, di umani come Homo e di altre forme. Tutto questo è spiegato molto bene in questi cinque minuti che vedete qui, purtroppo in inglese è un inglese molto comprensibile e una presentazione animata di Lorraine Lisiecki, che è una delle più importanti studiose di oceanografia fisica attuale e che ha dato un fortissimo contributo a quello che io vi ho appena raccontato. E poi qui nel sito della National Center for Environmental Information della NOAA ho trovato una quantità di dati utilizzabili direttamente per l'insegnamento, ci sono delle diapositive, ci sono dei forum di discussione, ci sono delle informazioni a diverso livello. Come tutto questo ha influenzato la nostra evoluzione? Ex-Africa sempre ha liquidi nuovi, dice Jacopo Moggi, che sentirete in una delle prossime lezioni. Tutto nasce, o quasi tutto, nasce in Africa e nasce attraverso tempi decisamente lunghi. Qui parliamo di circa 5 milioni di anni fa. Che cosa succede? In un tempo molto più antico, e andiamo oltre i 15 milioni di anni fa, l'Africa era in sostanza un territorio largamente piatto, suborizzontale, senza catene di montagne importanti come quelle che oggi vediamo in corrispondenza della Reef Valley in Africa orientale. La Reef Valley, che comincia praticamente dalla valle del Giordano, scende attraverso il Mar Rosso e poi seguita qui, fino al topico del Capricorno, approssimativamente. A un certo momento che cosa succede? Comincia a sollevarsi una serie di catene montuose in corrispondenza della Reef Valley. Qual è l'effetto di queste catene montuose? Andiamo a vederlo nella prossima diapositiva, in cui vedete che l'aliseo di sud-est, che è il vento dominante in questa zona, nel Golfo di Guinea fa un mulinello e torna indietro. Dopo essersi caricato di umidità marina, la va a scaricare sulla parte centrale del continente africano dove oggi abbiamo la foresta pluviale, qui dal Golfo di Guinea fino a questa parte in assenza, torno indietro di una diapositiva, di queste montagne, il regime atlantico soffierebbe e spargerebbe umidità lungo tutto la larghezza del continente africano, che all'epoca era largamente ricoperto da foreste. La surrezione di queste catene costituisce uno sbaramento alla circolazione atlantica e di conseguenza tutta l'umidità, arrivando avanti, trasportata dall'aliseo, si arena, si blocca contro le catene di montagna della Reef Valley, che è questa segnata in rosso. E quindi che cosa succede? Tutta la parte orientale del continente africano si trasforma da una foresta pluviale in un'area di savana e prateria, caratterizzata poi da un regime monsonico che porta a una stagione umida, a una serie di stagioni umide e a una stagione arida. La savana che tutti conosciamo dai vari documentari che ci sono stati ammanniti in vario modo da colleghi e da comunicatori. E questa è la ragione per la quale inizia la differenziazione tra gli ominidi, da una parte le grandi antropomorfe, gorilla e pan prevalentemente, nella foresta pluviale, dall'altra parte savana e prateria che darà col suo ambiente peculiare origine alle forme prima di australopitecine e poi di uomo, di uomo vero e proprio. Grazie all'ambiente particolare che oggi abbiamo in questa zona sappiamo relativamente tanto dell'evoluzione del clade degli ominini. Sappiamo invece pochissimo dell'evoluzione di gorilla e di scimpanze a partire dal momento in cui ci siamo separati. Perché in sostanza l'ambiente della foresta pluviale non è un ambiente conservativo, non si conservano bene le ossa, non ci sono i grandi laghi intorno ai quali si radunavano le grandi faune e gli ominini stessi. È una zona bassa, c'è scarsa erosione e quindi anche se questi resti ci fossero, ovviamente ci sono, sono sepolti a grande profondità in queste pianure alluvionali e non ci sono processi erosivi che scavino delle profonde valli che mettono in luce delle sequenze in profondità in grado di farci vedere questi resti, cosa che invece succede qui perché c'è stato il sollevamento delle catene montuaruose lungo la Race Valley e quindi di profondi processi di erosione come Olduvai Gorge, come la Valle dell'Omo in Etiopia che mettono in luce sequenze di centinaia di metri di spessore in fondo alle quali troviamo i resti dei nostri antenati di uno, due, tre, cinque milioni di anni fa. Da questo diagramma che è un pochino più cervellotico, se volete, queste sono sequenze paleobotaniche che mettono in luce in questa colonna il rapporto tra essenze arboree ed essenze erbacee nella parte occidentale nella parte orientale del continente africano, in cui si vede che in parte orientale del continente africano dopo i tre milioni di anni fa comincia un regime vegetale completamente diverso che è quello delle savane popolate prevalentemente da essenze erbacee con vegetazione arborea più o meno sparsa, mentre invece in foresta pluviale continuiamo ad avere i grandi popolamenti ad arboree. E guarda caso, proprio in corrispondenza di questa fase c'è un'esplosione nel numero di specie di ominini che sono presenti in questo ambiente. Da questa parte in Africa orientale non c'è niente, o almeno per quanto ne sappiamo c'è ben poco. Dall'altra parte guardate ci sono dei momenti in cui vi sono almeno sei o sette specie di ominini, per quanto ne sappiamo adesso, che vivono tutti contemporaneamente nello stesso territorio. Ma basta andare oggi a vedere quali sono i comportamenti delle faune anche adungulati moderni per renderci conto che sono specie che potevano coesistere nello stesso ambiente probabilmente perché occupavano nicchie ecologiche diverse. Mangiavano cose diverse, vivevano forse su terreni un pochino diversi e di conseguenza non entravano in competizione. È un classico esperimento evoluzionistico che però a un certo momento deve necessariamente passare attraverso una serie di tagli, attraverso la selezione naturale darwiniana e che porterà poi alla separazione del genere homo e alla eliminazione per selezione naturale delle altre forme. In questo caso, questo è un diagramma ancora un pochino più complicato se volete, è un articolo uscito recentissimamente e dà conto di una serie di ritrovamenti avvenuti in Africa Meridionale, la seconda culla dell'umanità, siamo a una quarantina di chilometri da Johannesburg. Qui vedete c'è questo elettrocardiogramma del clima, in questo caso sono isotopi dell'ossigeno ma ricavati da foraminiferi planktonici, ovvero dei piccoli protisti che si costituiscono un guscio calcareo utilizzando l'ossigeno dell'acqua marina. Questa curva non dà le paleotemperature, dà un'idea del volume del ghiaccio che è stato presente sulla terra perché semplicemente nel ghiaccio viene sequestrato preferenzialmente l'isotopo più leggero o 16, l'acqua del mare si appesantisce e tra le altre cose anche il livello del mare scende perché tutto il ghiaccio che trovate nelle calotte polari e nelle calotte montane ovviamente deve provenire dal mare e quindi il livello del mare si abbassa. 22 mila anni fa il livello del mare qui in Mediterraneo era di 130 metri più basso dell'attuale. In questo caso invece vedete che ci sono, siamo in Africa, quindi non ci sono chiare ed evidenti fasi glaciali, fredde con la formazione appunto di calotte, ma ci sono delle alternanze tra fasi umide e tra fasi più secche. Nelle fasi umide si formano, proprio perché c'è più acqua nell'ambiente, si formano le concrezioni stalatiti e stalagmiti all'interno delle grotte e le stalatiti e le stalagmiti sono facilmente databili e difatti vedete che questo diagramma con questa curva a tratto grosso vi mostra semplicemente il numero delle datazioni che sono disponibili in questo intervallo di tempo. Ce ne sono tante perché ci sono le stalagmiti, ma se ci sono le stalagmiti perché il clima era umido. Poi c'è tutta una serie di interpretazioni sul fatto che in certe fasi, soprattutto quelle più umide, le grotte tendessero a essere chiuse, mentre invece tendevano ad aprirsi durante le fasi più aride. E guarda caso, questa è una forma di Australopithecus africanus, molto probabilmente quello più vecchio che conosciamo, trovato a Streckfontein. Questa è una forma un pochino diversa, forse un pochino forse un'altra specie, vorrebbe qualcuno di Australopithecus africanus, ma guardate che sono presenti o comunque la loro vita, la loro esistenza comincia all'interno di fasi di aridità. E quindi evidentemente l'ambiente di steppa prateria, con più scarsa vegetazione nel Borea, per qualche ragione, ma questo ve lo racconteranno i colleghi nelle prossime lezioni, è più favorevole a certi processi evolutivi. Un ultimo aspetto, mi soffermo soltanto su alcuni aspetti particolarmente interessanti, non su tutto perché altrimenti dovremmo costruire un intero corso soltanto su questo, i percorsi e ostacoli che varie specie umane hanno dovuto percorrere per poter espandersi in tutto il mondo come oggi è popolato da noi. Non dimentichiamoci che tutto, come sempre, ha avuto origine in Africa. Si tratta di un'interazione tra innalzamenti e abbassamenti del livello marino e espansione delle calotte glaciali. Più si espandono i ghiacci, più scende il livello marino e viceversa. Stiamo parlando del fenomeno Out of Africa. Sappiamo che ci sono state, per quanto ne sappiamo, almeno tre fasi principali di espansione di diverse specie di ominini al di fuori del continente africano. Ora io vi racconto quella che è la profezia di Nostar Boschianus. Salterà fuori in realtà che il confine tra Africa e il resto del mondo è sempre stato estremamente permeabile e che c'è sempre stato continuamente un flusso di ominini dall'Africa verso l'esterno, ma probabilmente effettivamente in certe fasi cronologiche, ambientali e climatiche. Questo flusso è stato più importante e quindi noi lo percepiamo meglio perché in realtà il numero di resti che noi troviamo, anche in questo caso fortemente dipendente, come abbiamo già visto, dalle condizioni ambientali, il numero di resti è minimo rispetto a quello che effettivamente erano gli individui, il numero di individui che popolavano il mondo nel passato. La fossilizzazione è un evento eccezionale, quindi noi abbiamo una minima rappresentazione delle popolazioni del passato. E qui siamo ad almeno un milione 800 mila anni fa, se non anche prima, molto probabilmente attraverso la via di passaggio del Sinai lungo gli ambienti subtropicali, che sono gli ambienti che più confacevano, ma in realtà confanno anche adesso, a queste nuove forme, Homo erectus ergaster, per esempio, che sono caratterizzate da una forma del corpo longilinea, non più simile o che ricorda quella delle antropomorfe, come nel caso delle osteolopitecine, ma qualcosa che ricorda molto di più noi, e che è una costituzione che è fortemente adattata agli ambienti caldi ed aridi. E quindi attraverso questi passaggi che Homo, probabilmente Homo erectus ergaster, anche di questo sentirete parlare in seguito, si espande ed arriva almeno fino nel sud-est asiatico con date che sono probabilmente intorno a un milione e 7, un milione e 8. C'è un sito, Longo Po, in Cina, dove sono state trovate delle industrie elitiche che sembrerebbero molto vecchie, ma purtroppo non resti di omenini. In certi casi avete soltanto industrie elitiche come Erkan Ahmar a Ubaidia o a Rewat qui in Pakistan, in altri casi invece ci sono effettivamente anche resti umani. Cosa ne sappiamo dell'Europa? Attraverso scavi abbiamo messo in evidenza che ci sono state effettivamente delle frequentazioni intorno a grosso modo a milioni di anni. Per quanto ne sappiamo dalla geologia il canale di Sicilia non è stato percorribile, almeno non dopo 5 milioni di anni fa con la crisi di salinità del Messiniano che aveva trasformato il Mediterraneo in una microscopica pozzanghera. Evidentemente, di qui non sono passati, gli spagnoli che hanno trovato dei resti umani che hanno chiamato Homo antecessor in località Tapuerca apprezzerebbero molto l'idea che Homo potesse essere emigrato dall'Africa verso l'Europa attraverso lo stretto di Gibraltar, ma di questo purtroppo non abbiamo nessuna prova. Oggi come oggi, visto che le forme che più si avvicinano in questo periodo di tempo alle porte d'Europa sono questi molto particolari individui che sono stati trovati a Romanissi in Georgia, è probabile che sia stata seguita la via orientale, forse un po' facilitata da qualche abbassamento del mare che potrebbe avere costituito un ponte continentale chiudendo il Mar Nero attraverso un istmo qui dei Dardanelli. Ovviamente tutto questo ha anche a che fare, e siamo arrivati a circa 700-600 mila anni fa con la fase numero 2 di Out of Africa, è una forma diversa, anche di questa sentirete parlare probabilmente Homo heidelbergensis, e qui vedete intorno a questo periodo si fa molto più evidente e molto più importante l'influenza delle glaciazioni e del clima freddo, che aumenta sempre di più con delle oscillazioni molto più ampie, in senso caldo e freddo, e dei periodi glaciali e interglaciali di durata maggiore, intorno ai 100 mila anni. Ma è evidente anche che se da una parte le calotte glaciali e anche montane costituiscono un fortissimo valore impeditivo, dall'altra parte il livello del mare, che qui si abbassa lasciando completamente o quasi libero tutto l'Aderiatico settentrionale e centrale, costituisce a sua volta una via di passaggio alternativa a quella che dovremmo seguire, torna indietro di una via positiva per passare qui a nord dell'Aderiatico. Infine, Out of Africa 3, nella terza fase, e questa è l'espansione di Homo sapiens. Quindi sappiamo forse qualcosa di più, perché in realtà abbiamo trovato una notevole abbondanza di resti paleoantropologici qui in Palestina, che ci dimostrano che in una prima fase, probabilmente intorno ai 120-105 mila anni fa, le prime forme di Homo moderno, una specie di Homo sapiens, si espandono attraverso l'unica via possibile che è sempre quella del Sinai e si insediano in Palestina. Però poi scompaiono e vengono sostituiti dai Neandertaliani, specie squisitamente europea che però nel frattempo ha cominciato a espandersi anche verso l'Eurasia occidentale, in questa zona qua. Ve ne parlerà probabilmente con abbondanza a qualcun altro a proposito di quel brandello di storia che Giorgio Manzi chiama il fattaccio e che ha portato probabilmente a un contatto tra Neandertal e Sapiens. Ma per qualche ragione che non è del tutto chiara, il tutto si ferma qui. Ricomincia l'espansione di Homo sapiens fuori dal continente africano quando? Quando intorno a 80 mila anni fa, in una fase glaciale, il livello del mare si abbassa e come Mosè che attraversa le acque del Mar Rosso, anche i primi Homo sapiens riescono a passare probabilmente attraverso lo stretto del Mandeb, qui nella zona di Aden, e a seguire quella che viene chiamata la via meridionale. Guarda caso, anche questa volta vicino alle coste e in ambienti subtropicali. Sono i primi sfruttatori di risorse marine. Sono i beachcombers, gli spazzolatori di spiagge che raccolgono appunto conchiglie, pescano lungo le coste e si spostano in maniera efficiente. C'è qualche apparentemente, c'è qualche indizio anche genetico che effettivamente si siano mossi attraverso la via meridionale, con tempistiche molto più rapide di quanto non sia successo per l'occupazione dell'Europa, perché alla faccia di tutto quello che gli succede per la strada, incluso incappare nell'eruzione del supervulcano Toba, in realtà Homo sapiens popola il continente australiano quasi sicuramente intorno a 50.000 anni fa, se non addirittura anche prima, essendo stato capace di navigare in qualche maniera quei 100-150 km dello stretto di Timor, che non è mai stato anche a livello del mare basso percorribile, perché qui le profondità stavano oltre i 3.000 metri. Intorno ai 74-72.000 anni l'eruzione del supervulcano Toba, che crea probabilmente un migliaio di anni di inverno vulcanico attraverso l'emissione di eietta, di polveri, che nell'atmosfera costituiscono una barriera al passaggio della radiazione solare, che quindi provocano l'abbassamento della temperatura. Quello che è successo intorno al 1820 a causa delle eruzioni del Tambora e di altri vulcani, sempre di questa zona, ma che in confronto al Toba sono stati gli zolfanelli. Qui in Rajasthan ci sono, tra diversi livelli archeologici di quest'epoca, 3 metri di cenere vulcanica che li separano e le ceneri si trovano persino all'interno dei grandi laghi africani. E questo ha tagliato in due l'umanità sapiens, che aveva già probabilmente in parte valicato questa zona e che seguirà per un breve periodo anche delle vie geneticamente un pochino diverse, come appunto dimostrazione del fatto che queste popolazioni vengano separate in due tronconi da questo evento. molto particolare, che probabilmente ridusse la popolazione mondiale del 70-80%. Siamo arrivati vicinissimi all'estinzione in quel momento. Se guardate i quadri di Turner, il pittore inglese, ci sono questi bellissimi tramonti giallorossi e lui era tra i tramonti di quel periodo in cui c'erano state delle eruzioni vulcaniche che avevano immesso nell'atmosfera questo polverino, che provoca una riflessione particolare dei raggi di sole dell'atmosfera dando colore rossastro ai tramonti. Vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza. Grazie. 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 Grazie.